Vengo da un'esperienza della facoltà di agraria come formazione, poi i miei interessi per il mondo della piante si approfondiscono con un dottorato di ricerca in geobotanica presso l'università di Ancona, poi però vivo qua e qui si ha la fortuna di avere a che fare con un giacimento di biodiversità che io chiamo agraria oltre a quella naturale perché un botanico qui troverebbe da lavorare non una vita ma perché il gargano, adesso potrei usare frasi comunissime, ma qui la botanica trova il suo giardino come è stato più volte pure definito, gargano come giardino di botanica e quindi uno che ha interessi come i miei qui trova il paradiso poi la gente, le relazioni umane, un altro mondo, però se uno si vuole accontentare qui, limitandosi a coltivare i propri interessi trova il paradiso, il problema è che poi ti viene voglia di realizzare, di fare qualcosa per questa terra che poi ti lega questa amara terra ti lega e vorresti realizzare e qui il muro è grande e alto perché le porte da bussare sono tante le difficoltà, forse le scarse sensibilità, forse perché ce ne abbiamo tante di risorse le difficoltà e ti rimaneva almeno la possibilità di poter coltivare una voglia di far sapere e quindi c'è tutta un'attività di ricerca ma allo stesso tempo di pubblicizzare, di divulgare questo patrimonio di conoscenze che acquisivi che soprattutto la storia ti consegnava perché su questo Gargano è stato scritto moltissimo, più nell'ottocento, nel seicento, nel settecento che in tempi recenti dove abbiamo fatto più dei pian turistici e quindi ecco tutta un'attività di ricerca che poi ha trovato momenti di pubblicazioni ne ho fatte diverse sia scientifiche che divulgative. Tra i tanti capitoli c'è quello del vino insomma del vino perché tra la straordinaria diversità di risorse agricole ci sono anche i vitigni quando io torno dopo l'esperienza universitaria qui di vitigni c'erano ancora vecchie vigne sto parlando di 30 anni fa quando c'era ancora una generazione di anziani che aveva ancora la piccola vigna vecchia quindi se queste ricerche l'avessi fatto 30 anni fa avrei trovato una incredibile e questi interessi maturano dopo quando già ormai queste vecchie vigne sono morte perché sono morti i custodi sono morti questi contadini quindi è venuto meno la memoria perché sennò ti trovi non c'è più la vigna e trovi oggi tanti casi di spontaneizzazioni cioè giri nei boschi e trovi una vite oppure in tante campagne abbandonate che oggi sono boschi trovi ceppi che c'hanno sti grappoli bianchi rosa chi sono allora quindi c'è un capitolo di tanti casi di spontaneizzazioni che ci ricordano che la vigna qui ha radici storiche e dall'altra trovi ancora una piccola vecchia vigna dove c'è la possibilità di salvarli di sapere perché qualche anziano ancora era presente 15 anni fa che ci ha detto quello si chiama Pampanone quell'altro si chiama Nardobello quindi questi vitigni non erano passati inosservati ma sono il frutto di queste selezioni che molte delle quali è avvenute qui e quindi identificate con fitonomi dialettali Nardobello, uve della macchia, malvagie, pudicine tenere, barba rossa, uva rossa uva nera tosta i nomi ci sono tutti per quelli che rimangono guarda caso sti nomi li vai a ritrovare in documenti storici molti che ci portano a fine ottocento quando in Italia cominciamo a fare i primi bollettini ampellografici che pubblicavano i vitigni che volta per volta poi registravano censivano in Italia e che fai non sono sono erano vitigni sconosciuti c'era solo un nome e basta che era però l'identità culturale e biologica anche perché il nome identificava il vitigno non era un nome a caso quindi col nome i vignaioli garganici di Vico hanno costruito la storia di quel vitigno e quando decidi di muoverti poi ti risponde il parco tanti anni fa poi tanti progetti avviati e mai portati a termine ecco che decido di fare io prendo sti vitigni li metto insieme in una un campo che era la vecchia vigna di mio nonno e costruisco questa prima collezione di quei 25 che ero riuscito a recuperare solo nell'agro di Vico peschici e quindi poi finalmente arriva l'università ne cominciamo a studiare prima il gruppo Moscato poi finalmente arriva l'università di Bari con uno spin off c'è una legge regionale che avvia un progetto di recupero di questi vitigni almeno di censirli nel frattempo io avevo fatto il mio vino il mio vino che era questo qui fatto progettato in vigna quindi quello che è sono i 25 vitigni con cui normalmente si facevano le vigne a Vico perché il principio fondante era la biodiversità non a caso si facevano vigne con più vitigni si facevano perché si sfruttava la biodiversità perché ogni anno così facendo il contadino si garantiva la sua produzione perché quest'anno una malattia colpiva quel vitigno quell'altro anno un altro ognuno ha le sue sensibilità però io alla fine sto sicuro che ogni anno mi faccio il mio vino quindi il concetto di biodiversità su cui oggi tanto si parla si sparla ormai ne parlano tutti non era una cosa così banale non solo è un principio fondante delle dinamiche naturali ma l'aveva capito anche il contadino che con la biodiversità si poteva sfamare e farsi il vino tutti gli anni il macchiatello subito mi dà coraggio un certo veronelli che pochi ormai per questioni anagrafiche si ricorderanno ma il vero profeta del vino in italia era proprio lui una sera lo stavo sentendo in una trasmissione si parlava di concetti democrazia di libertà con de aglio non so se e c'era lui con sto bicchiere in mano che beveva e parlava di democrazia perché lui era un anarchico e io gli faccio un email trovo sulla rete l'indirizzo ma figura mi racconto un po in questa email no figura se mi risponde non chiudo il computer a mezzanotte vado perché già mi aveva risposto ti voglio incontrare e così ci incontriamo mi inserisce subito nella guida veronelli che non è una guida da poco insomma e così continuo in questo giochettino però il mio interesse è sempre botanico etnobotanico poi per coltivare sta piccola collezione hai bisogno di qualche soldino i soldini non te li dava nessuno e allora punto tutto vendo qualche bottiglia e dimostro che questo vino se uno vuole farci impresa non ci vuole niente perché è un vino che chi lo assaggia dice al massimo un aggettivo che è quello di particolare e giustamente no quindi io sto dimostrando o sto mettendo a disposizione della collettività un patrimonio di 25 vitigni in cui si potrebbero fare 25 vini e creare un piccolo segmento di economia per un paese come questo che può qualificare la sua offerta turistica e dargli spessore non solo gastronomico ma anche storico ma anche storico